il bambino intanto hai visto? eh sono tornato al vostro palazzo con un biglietto all'altro anche molto ah ma mi l'ha messo ma ero Nappu ma quello era vecchio, avevo pure 97 anni guarda un po' di chiesto no? io 97 anni quello fino a 90 anni è stato buono signor ma calma te hai fatto la campanella di 70 però non ti dormi ti piangi ci cagli ma non è qualcosa di brutto da dire la verità no io no io sei un uomo e si morì hai due uomo eh 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 nonna 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 nonna